la formazione è fondamentale perché ho sempre reputato la formazione come benzina per un artista come una macchina senza formazione senza benzina non si va troppo avanti quindi rimane l'unico fattore fondamentale per un artista ma secondo me attori si nasce però ci si potrebbe anche diventare basta avere un attitudine un attitudine particolare però nessuno di noi lo sa veramente se c'è nato o se ci può diventare sicuramente fare scuola di teatro recitazione può far tirare fuori può riuscire a tirar fuori quel talento che non sappiamo di avere perché a differenza del cantante quando prova a intonare una canzone se ne accorge che la voce c'è per l'attore è un po più complesso finché non si mette alla prova non riesce davvero a capire se lo è e se ha le potenzialità quindi bisogna scoprire l'attore che c'è in se stessi solo mettendosi alla prova consiglio di innanzitutto approcciare alla formazione fare un corso di recitazione per capire se davvero è quello che cerchiamo una volta che abbiamo capito che da grandi vogliamo fare gli attori bisogna sempre alimentare con la fiamma che abbiamo dentro di noi sia una formazione ma anche con la passione metterci sempre passione questo messiere è fondamentale perché è un mestiere di privilegiati siamo artisti quando lavoriamo non lavoriamo ma ci divertiamo e quindi mantenere alta la passione formarsi sempre aggiornarsi perché non si smette mai di imparare nemmeno a fare l'attore dai ragazzi mettetece la tutta in bocca al lupo